Nel corso dei 20 mesi della guerra di liberazione, nelle formazioni partigiane piemontesi entra una componente rilevante di persone provenienti dal sud Italia. La banca dati del partigianato meridionale, presentata al Polo del Novecento di Torino, ripercorre i percorsi biografici di un centinaio dei quasi 8.000 partigiani meridionali che presero parte alla resistenza in Piemonte. Pompio Coloianne, Vincenzo Modica e Fratelli Nicoletta sono alcuni dei nomi, con l'ultima verifica, 7.300 partigiani meridionali che hanno combattuto nella nostra regione durante la guerra di liberazione. La dimostrazione del fatto che se può essere stata considerata la prima guerra mondiale, dove meridionali e veneti hanno combattuto assieme in qualche modo la continuazione dell'epopea risorgimentale, la seconda guerra mondiale può essere considerata davvero il momento, grazie all'impegno di questi 7.000 cittadini italiani nel quale l'Italia in qualche modo assieme ha combattuto contro il nazismo.